Ha destato alcuni attimi di preoccupazione l'incendio che si è scatenato qui in Via Cupa, Mastro Gennaro, ad Angri, nei pressi di alcuni istituti scolastici. Un incendio che fortunatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera e di Sarno hanno domato in poco tempo in una operazione congiunta. È stata riscontrata però la presenza anche di amianto, quindi con un grave danno ambientale per la zona sarà presente anche una pattuglia di legambiente per valutare anche il danno ambientale. Le fiamme sono state domate in circa tre quarti d'ora. Pare ci sia stata qualche complicazione iniziale dovuta agli impianti antincendio con le colonnine senza acqua. Paura soprattutto per gli studenti dei vicini istituti scolastici. Nonostante la situazione fosse perfettamente sotto controllo, sono stati evacuati in via precauzionale l'istituto Fortunato e dopo poco il plesso delle elementari di Via Adriani. Sul posto un'ambulanza del 118 e la Polizia Municipale che ha bloccato la circolazione sulla strada interessata dall'incendio. Si indaga ora sulle cause che hanno scatenato le fiamme e per ora non si esclude nessuna pista, compresa quella dolosa a preoccupare e anche il danno ambientale provocato dall'amianto presente in zona.